È nota per il ruolo di Cassandra nella fiction sensualità a corte, trasmessa da Italia 1 all'interno del programma satirico Mai Dire Martedì. Dal 2004 partecipa, sempre in coppia con Marcello Cesena, a numerosi sketch all'interno dei programmi della Jalapas Band. La sua attività principale è il doppiaggio, nel campo del quale è principalmente conosciuta per aver dato la voce al personaggio di Sabrina. Nell'anime è quasi magia Johnny e al personaggio di Harley Quinn nella serie animata Batman e nei videogiochi Batman, Arkham Asylum e Batman, Arkham City, e anche la voce di Rossana in Rossana. Dora e Mii in Magica Dora e Mii, Lady Nera in Sailor Moon, La Moon e gli omonimi OAV, Miu in Vampire Princess Miu e Krillin in Dragon Ball. Dragon Ball Z nei ridoppiaggi dei primi 12 film della serie. Fa parte dell'Adap, Associazione Doppiatori Attori Pubblicitari, ha partecipato anche a varie produzioni teatrali. Ha due figli, Elena, nata nel 1990, e Marco, nato nel 1994.